Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo Q&A Sunday, ma forse no, forse anche oggi la scampo con questa febbre, però la situazione non è granché. Ad esempio ora il mio occhio destro vede pochissimo e di solito questi sono i tipici segnali strani dei miei raffreddori e ce ne sono altri ancora più strani. Però vabbè, buona fine di domenica, buon inizio per la prossima settimana, la mia speriamo sia migliore di questa che è stata l'insegna del raffreddore, dei fazzoletti, della vestaglia e del termometro e noi partiamo subito dopo la sigla con le vostre domande più interessanti che mi avete fatto la scorsa settimana sotto il video. Andate quindi nei commenti e iniziate a fare la domanda per il video di settimana prossima. Ah, e poi c'è sempre la parola chiave che in questo caso però non la metto a fine video ma la metto sparsa in mezzo al video così vi obbligo a guardarlo tutto e la sfida diventa più interessante. Partiamo! La prima domanda è di Giampaolo Pitisci. Ciao Andrea, volevo chiederti un parere. Tra qualche mese vorrei cambiare iPhone e sono indeciso se prendere 8 Plus o aspettare un presunto modello Plus con display OLED e Borderless del 2018. Tu cosa mi consideresti? Naturalmente il discorso è slegato dalla questione economica. Mmm, è una bella domanda perché nei prossimi mesi uscirà forse l'S2 ma non credo sia un telefono che ti possa interessare. Modello Plus con display OLED nel 2018 se effettivamente l'iPhone X ti sembra piccolo, se l'hai visto in Apple Store, se sei andato a provarlo, se l'hai visto in mano a qualcuno e ti sembra piccolo, il mio suggerimento effettivamente è quello di aspettare. Forse il modello del 2018, l'iPhone X Plus semmai uscirà, però siamo nel campo delle ipotesi. iPhone 8 Plus è un telefono stupendo, io ve lo dirò fino alla nausea perché è veramente un telefono stupendo, bello massiccio, col suo schermo che è comunque importante. Ovviamente, certo non ha un design particolarmente futuristico, però, oh, qualche compromesso bisogna accettarlo. E ormai online si trovano anche delle offerte piuttosto interessanti, di sicuro oggi lo paghi molto di meno di quello che pagherai tra un anno l'iPhone X Plus, che non sappiamo quanto arriverà a costare. Quindi, se da una parte ti dico se sei interessato ad iPhone X, ti piace come telefono l'idea di non avere il Touch ID, l'idea di non avere il Touch Home, di avere il Face ID, allora sì, può essere una buona soluzione aspettare il 2018, altrimenti anche l'iPhone 8 Plus oggi è un ottimo acquisto e ti durerà nel tempo. Enrico Scamardella, Q&A potrebbe essere una soluzione per la chiusura delle app in multitasking su iPhone X quella di far chiudere le app come prima, swipe verso l'alto e nel caso non si vogliono chiudere per uscire e fare un tap sulla parte in trasparenza sotto le app aperte? Cosa mi sfugge? Perché hanno implementato il tocco prolungato per la chiusura? Credo che sia stata una scelta per rendere più semplice, almeno all'inizio, per capire che effettivamente se tu fai quello swipe sopra, ha sempre l'effetto del tasto Home. Ovunque tu lo faccia, quindi se vuoi andare a chiudere le app devi specificarlo. Infatti quell'azione per chiudere le app, se la fai ovunque, anche nella schermata Home, se arrivi all'ultima pagina e fai lo swipe verso l'alto, il telefono ti torna alla pagina principale. Sono d'accordo con te però che in quel particolare menu effettivamente non serve perché potresti comunque scorrere verso l'alto, però vi dico una chicca perché basta premere l'icona di un'app, l'anteprima di un'app e col dito tenuto premuto poi potete già swipare verso l'alto. Quindi è inutile fare due passaggi tipo apri il multitasking, poi premo, anzi tre, poi scorro verso l'alto. Potete fare apri il multitasking, premo un secondo e poi tenendo premuto trascino verso l'alto e vedrete che l'app si chiuderà, il telefono entrerà in modalità di chiusura delle app e quindi potrete essere un attimino più veloci. Comunque sì, condivido, potrebbe esserci un passaggio ulteriore in meno, cioè quello di non tenere premuto e di andare direttamente sulla preview e scorrere verso l'alto per chiudere le app. Ma ragazzi chiudere le app non serve a nulla, ve lo dice anche Craig Federighi. Andrix, ciao Andrea volevo chiederti quando secondo te saranno introdotte delle importanti funzioni su iPhone, split view e drag and drop. Secondo me sono funzioni importanti già introdotte sugli smartphone da tanto tempo. Secondo me il drag and drop, il drag and drop in parte già c'è in realtà con iOS 11, non tra app diverse ma all'interno di una stessa app. Lo so che non è la stessa cosa, ma potrebbe essere steso secondo me anche tra due app, magari con l'arrivo dello split view che secondo me arriverà soltanto su iPhone X per via dello schermo più lungo che largo. Mentre sugli altri iPhone, per questione di marketing, non che non si possa fare, eviteranno di portare questa funzione. Quindi solo sugli iPhone X e successivi potrebbe arrivare questa feature che secondo me potrebbe in quel momento poi garantire la possibilità di avere due app aperte nella stessa schermata e di passare un file da un'app, prenderlo e buttarlo nell'altra. Quindi secondo me forse già con iOS 12 potremmo vedere queste due novità. Samuele Uberti Foppa, Q&A, ciao Andrea, quante volte il case delle AirPods può caricare quest'ultimo? I tempi di ricarica di entrambi case e cuffie, guarda il bello delle AirPods, e mi sa che la domanda dopo infatti ci si collega a questo, è che non devi farti sti pensieri. Cioè le cuffie durano, le usi 3-4 giorni, non ti preoccupare di quanto ci vuole per caricare, non ci vuole tanto. E per caricare il case non ci vuole tanto, perché le batterie sono talmente piccole che la carica è abbastanza veloce in ogni caso, sia del case che delle cuffie. Quindi godeteveli i prodotti Apple come questi. Cioè il bello è che, come diceva Steve Jobs, funzionano, semplicemente funzionano. It just works. È proprio la caratteristica di Apple, no? E le AirPods, come vi ho detto più e più volte, sia nella recensione, sia nella recensione dopo sei mesi, il bello è che sono il miglior prodotto di Apple per la filosofia che ha da sempre avuto questa azienda. Cioè quella dell'essere semplici, immediati. Nasce, stai, tempi di ricarica del case, dai fratello caro, sui tempi di ricarica del case delle AirPods, dai, ci mette nulla a caricarsi. Ci mette veramente pochissimo, che ne so, un'ora, mezz'ora, ci mette pochissimo davvero. E le cuffie sono costantemente in carica quando le metti dentro, quindi sono sempre poi cariche. Goditi il prodotto, se lo vuoi acquistare, se ce l'hai già, insomma, ancora di più, goditelo e non ti fare troppi pensieri. Fai come Andrea Ramada, che mi chiede, ciao Andrea, da un po' che sono indeciso se prendere o no le AirPods, forse avere il prezzo abbastanza alto, però ho sentito che le prestazioni sono sbalorditive. Tu me le consiglieresti, secondo te sono comode, e questa è la parola chiave, nell'uso quotidiano, adatte per uno studente? Beh, sono adatte per tutti i ragazzi, sono delle cuffie, non esistono delle cuffie adatte per uno studente, delle cuffie adatte per un poliziotto. Cioè, una cuffia è una cuffia. Queste sono cuffiettine, neanche i Near si può dire, perché sono una via di mezzo tra una cuffietta standard e una i Near. La loro principale caratteristica è l'abbinamento istantaneo a tutti i prodotti Apple e il fatto che sono molto smart. La togli, ne togli una dall'orecchio, si blocca la riproduzione, la rimette, riparte, controlli touch così al tocco. Insomma, sono un prodotto molto riuscito, secondo me. Con Apple Watch si completano al top, perché non avendo controlli, quello può essere un limite, ma se avete un Apple Watch al polso, controllate la riproduzione al meglio, direttamente da qui, dall'orologio. E quindi sì, poi come prestazioni, prestazioni per una cuffia, insomma, come audio, sono molto buone rispetto ad altri prodotti simili. Non cadono dalle orecchie, insomma, secondo me valgono veramente quello che Apple chiede. Ma in questi giorni si trovano anche in sconto a 130-140€, che è una cifra veramente molto interessante, quindi secondo me vai, fiondati, comprale e non te ne pentirai, assolutamente. Davide Tutone, ciao Andrea, lo schermo IPS LCD di iPhone 8 8 Plus sarà ancora valido il prossimo anno con i nuovi OLED dei prossimi iPhone o sembrerà parecchio primitivo? No, secondo me sarà ancora valido, perché comunque gli OLED del prossimo anno, non mi aspetto, siano molto diversi dall'OLED di iPhone X. E oggi l'OLED di iPhone X, messo comunque a confronto con gli IPS di iPhone 8 e di 8 Plus, non è, cioè, è ovviamente uno schermo più elaborato, con una tecnologia migliore, che alla fine è uno schermo migliore. Però dall'altra parte non c'è uno schermo che sfigura, che tu lo guardi e dici, no, cos'è sta schifezza qua? Si vede che non è un OLED. No, quello è un ottimo IPS, è il miglior IPS in circolazione e credo che ce ne vorrà un po' prima che possa sembrare obsoleto. Ci vorrà veramente tanto tempo, quindi sarà sicuramente ancora, altro che primitivo, sarà molto molto avanti anche l'anno prossimo nella gamma degli IPS. E siamo arrivati all'ultima domanda di questo video. Oh caspita, ho dimenticato la parola chiave. Beh, allora quasi quasi ve la dico ora, tanto in un modo o nell'altro. Non sapete in che punto del video è, no? E la parola chiave è parola chiave, hashtag parola chiave. Freddy Scout, Q&A Sunday, ciao Andrea, ma la linea iPad mini è morta, sono due o tre anni che non viene aggiornata. Pensi sia utile comprare come computer secondario il MacBook Air? Allora ci sono due domande. In pratica io ho un iMac da 21 pollici, ok. Io per tanto tempo ho avuto un iMac da 21 pollici e un MacBook Air, però oggi non te lo consiglio come prodotto. Molto meglio un MacBook 12, lo so che costa di più, però l'Air ormai nel tuo caso potrebbe ancora andare, perché è comunque un altro Mac, però sinceramente è un computer ormai un po' provato dagli anni, quindi non so se ne valga ancora la pena. Molto meglio investire qualcosina in più in un MacBook di generazione più recente. Però tornando alla prima domanda, se la linea iPad mini è morta, di sicuro Apple non la considera più o meglio. Ha quell'iPad mini 4 in line up da tanto, secondo me hanno già smesso di crederci in quel prodotto, non stanno lavorando ad un iPad mini 5, non ci sono notizie in questo senso, ma io personalmente non credo ci stanno lavorando, e quindi credo che porteranno avanti l'iPad mini 4 fino a quando avrà senso, fino a quando non sarà completamente fuori mercato per la dotazione tecnica che avrà, e a quel punto lo toglieranno. Tanto c'è iPad 2017 e poi ci sono gli iPad Pro. Quindi secondo me sarà questo il futuro della gamma iPad mini, cioè restare unicamente con iPad mini 4 fino a quando non diventa troppo vecchio per essere venduto. A quel punto ciao ciao iPad mini. Bene ragazzi, quindi le domande sono finite, però torneranno settimana prossima. Quindi fatemele qui sotto nei commenti, io le selezionerò per il video che andrà online tra 7 giorni, sempre qui alle 19 sul canale YouTube di iPhone Italia. Voi iscrivetevi, commentate, lasciate un like al video se vi è piaciuto, e iscrivetevi anche a tutti i nostri account social che trovate qui sotto in descrizione. Se vi va seguitemi anche su Instagram, il mio nome è Andrea Cervone, anche su Instagram, molto semplice. Noi ci risentiamo al prossimo video. Ciao a tutti da Andrea Cervone per iPhoneItalia.com